Angelo Sante, questa mattina in quinta commissione si è discusso di PPI di Tagliacozzo e Piscina. Qual è il risultato di questo incontro con i sindaci marsicani? Il risultato è che abbiamo avuto la conferma ufficiale da parte del manager della ASL che questi presidi saranno riaperti H24. Il manager non ha voluto per questione di serietà dare una data precisa, ma si è impegnato ad una riapertura il prima possibile. Teniamo presente che queste strutture erano state chiusi in maniera previdenziale nel momento in cui c'è stata la pandemia, perché non si riusciva a garantire nelle strutture stesse un percorso di sicurezza adeguato. Oggi c'è una presa di posizione ufficiale da parte della ASL e del governo regionale, quindi i posti di pronto intervento saranno riaperti H24 esattamente come erano prima. Leggo delle dichiarazioni sia da parte dei esponenti dei Cinque Stelle che da parte del Partito Democratico che giustamente fanno la loro politica e cercano di creare un po' di confusione dicendo che sarebbe stato svelato chissà quale oscura volontà da parte del governo regionale di non riaprire queste strutture. Ebbene non è così, in commissione che una sede ufficiale il manager ha chiaramente detto che saranno riaperti. La riapertura comporta ovviamente l'istituzione dei percorsi Covid, perché ricordiamo che siamo ancora in emergenza Covid, per poter lavorare in sicurezza. Ma questa riapertura non sarà una goccia nel mare o una cattedrale nel deserto, ma ci sarà attorno a queste strutture una presa di posizione importante da parte del governo regionale per potenziarle e per poterle dotare di quei servizi nei confronti della cittadinanza che il precedente governo regionale in realtà aveva tolto.